Il cammino, testa di serie M. 1, le azzurre hanno saltato il quartier e in semifinale hanno incontrato la Cina che ha superato l'Ucraina. Questa con la Cina avrebbe dovuto essere la vera finale. Le ragazze non sono partite bene e hanno continuato peggio fino all'ultimo assalto. 40-31 per la Cina, poi è subentrata Bebbe che di fronte arriva la Bianca, una delle categorie a più forti. L'azzurra di Molliano Veneto impatta male, 42-31, poi si stacca la ruota, senza conseguenze per fortuna, e l'incontro viene fermato. Quando riparte Bebbe deve recuperare 14 punti per vincere. Alla Bianni bastano tutti. Succede qualcosa, Bebbe parte a razzo in fila stoccato come un'indemoniata, chiudendo l'assalto 45-44. Una vittoria pazzesca, mai vista una Bebbe così. In finale con l'Ungheria, che ha superato la Russia, l'Italia vince in scioltezza 45-35. Grandi azzurre trascinate da una Bebbe infinita. Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai, ero tranquilla, a quel punto ho tirato per divertirmi, non guardavo il risultato e tiravo e basta, meglio che potevo, finché alla fine. Che bella la schermo, soprattutto quando posso condividerla con la mia squadra.